E' sera, abbiamo finito questi splendidi tre giorni, abbiamo incontrato anche un altro portavoce a 5 Stelle, Rico Stefano. Rico, tu che sei giovane, rivolto ai giovani, perché le persone si devono attivare a questi eventi? Si devono attivare perché sono stati tre giorni indimenticabili, emozionanti, bellissimi, tantissime persone, tantissime idee, tantissime informazioni, proposte, anche qualche volta qualche critica, ma è nel nostro spirito, perché noi siamo così, siamo aperti, siamo alla luce del sole, non abbiamo paura a incontrare i cittadini e quindi invito chi non è venuto in questi giorni a seguire il movimento e a seguire il blog, perché sicuramente faremo altri eventi così belli, così partecipati e così vivi, soprattutto dal punto di vista del cuore che non ci manca. Ma non solo nel blog, dovete andare in comune, nei municipi, in regione, al Parlamento, contattate i nostri portavoce. Assolutamente, assolutamente, è questo il primo principio del cittadino attivo, interessarsi della cosa pubblica. La politica per 50 anni, per 60 anni è vissuta sul fatto che le persone non sapevano cosa avvenisse nei palazzi del potere. Invece questa è l'occasione, grazie ai portavoce a 5 Stelle che sono sempre disponibili e diffondono tutte le informazioni, andare a vedere cosa succede nelle stanze del potere.